Se avete riscontrato problemi riguardo all'audio sul gioco Black Meat Wukong che non si sente niente quindi in questo caso tu vedi così il gioco e stai avendo anche problemi di lag però non senti neanche l'audio del gioco. Quindi in questo caso è possibile risolvere tutto attraverso le impostazioni audio quindi tasto destro su l'icona dell'audio qua sotto impostazioni audio scendiamo fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio. Andiamo direttamente su riproduzione ovviamente l'audio a me esce da questo altoparlante FX Sound io ovviamente uso anche un boost per aumentare anche l'audio perché diciamo che non si sente molto bene quindi tasto destro sopra e faccio proprietà. Vado su avanzate modalità esclusiva metto consente alle applicazioni assumere il controllo esclusivo dei dispositivi quindi mette a spunta qua sopra e su formato predefinito io metto l'ultimo. E l'audio si sente e faccio ok una volta fatto puoi farlo su tutti i dispositivi audio che hai collegato così al tuo computer come questo qua del RealTech Audio proprietà avanzate consente alle applicazioni di assumere il controllo esclusivo del dispositivo. E abilità miglioramenti audio e qua metto su qualità professionale 96.000 Hz e faccio pro e faccio applica. Se non dovesse bastare andiamo un attimo su tasto destro su start qua gestione dispositivi ovviamente il gioco me lo riproduce direttamente sul RealTech Audio eccolo qua. Se c'è un triangolino giallo qua vicino vuol dire che l'audio non funziona bene tasto destro sopra aggiorniamo il nostro driver cerca driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer. Metti il primo fai avanti e installa. Se non dovesse bastare c'è un programma per aggiornare così i nostri dispositivi audio di nome driver easy che ti ho lasciato in descrizione. Ci sono molte versioni quella gratuita che limita il download quindi ci metterà un bel po' a scaricare il driver e poi ci sono le altre versioni sul sito che sono a pagamento. Quindi tu scarichi l'applicazione e la installa e questa qua è la versione gratuita. In questo caso fai la scansione, farà la scansione dei dispositivi audio e di altri dispositivi installati sotto computer per vedere se devi fare qualche aggiornamento. Vado su aggiorno ed eccoli qua. Real tech audio effects component tutti real tech audio real tech high definition audio ovviamente per farti un piccolo esempio perché questo driver qua pesa 63 megabyte quindi ci metterò parecchio a scaricarlo. Come ho detto mette il limite al download quindi ci metterà parecchio a scaricare sulla versione gratuita. Quindi per farti un piccolo esempio prendo questo qua, faccio aggiorno, crea manualmente, faccio continua, installa manualmente e faccio continua. Ti uscirà così una cartella, copi così il percorso file, vai direttamente sul dispositivo audio tuo, facciamo fin da che io l'ho scaricato, in realtà è caudio quindi devo aggiornare questo dispositivo qua. Passo destra sopra, faccio aggiornare driver, cerco il driver nel computer e metto il percorso file di quella cartella. Così facendo installo i driver che mi ha fatto scaricare, faccio avanti, installo il driver per il mio dispositivo. Tutto grazie a driver easy. Se non dovesse bastare andiamo direttamente su risoluzioni. Impostazione, risoluzione, problemi. Altri strumenti di risoluzione dei problemi. E qui c'è audio. Facciamo una scansione e vediamo qual è il problema. Facciamo così il nostro consenso, quindi facciamo sì. Facciamo sì. Hai sentito il suono bip? Io l'ho sentito e faccio sì, quindi l'audio funziona. Facciamo no, non faccio nessuna scansione. Puoi anche chiudere se hai sentito il bip. Quindi chiudo un attimo qua. Se non dovesse bastare sempre su impostazioni audio, sulla scheda, prova anche a metterlo come dispositivo predefinito, oppure disabilita il dispositivo e riabilita. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Se è stato utilissimo questo tutorial, iscriviti, lascia like per altri problemi. Come ho detto, commenta. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.